Il consigliere regionale d'Abruzzo di Fratelli d'Italia, Francesco Prospero, interviene sulla crisi idrica che ha colpito duramente le comunità dell'Alto Vastese. Secondo l'esponente politico Vastese occorrono interventi urgenti, un piano di gestione a lungo termine che tuteli la continuità e la qualità del servizio idrico per tutto il Vastese. In risposta a questa situazione critica è stata fissata per il 14 novembre prossimo l'audizione in Commissione di Vigilanza, a cui parteciperanno i sindaci di Vasto, Casalbordino, Furci, San Buono, Gissi, Monteodorisio, l'assessore regionale Emanuele Imprudente, i rappresentanti di Ersi e della Sasi, insieme ai consiglieri regionali coinvolti. Questo incontro rappresenta un momento cruciale per condividere e valutare le problematiche specifiche dei singoli comuni, sottolinea Prospero, e per definire soluzioni immediate per l'Alto Vastese, la zona maggiormente colpita, senza tralasciare le necessità di un approccio integrato che risponda alle esigenze idriche della provincia di Chieti e di tutto l'Abruzzo. In particolare la Sasi è chiamata a fornire risposte concrete per risolvere con urgenza la crisi che affligge i comuni di Furci, San Buono, Gissi e Monteodorisio, dove la situazione idrica è ormai insostenibile. La Commissione intende affrontare in modo sistematico e coordinato l'emergenza, portando avanti un'analisi approfondita delle carenze strutturali e delle difficoltà operative che hanno aggravato la situazione. Sarà fondamentale inoltre delineare azioni concrete per migliorare la resilienza del sistema idrico e garantire la sostenibilità della rete di approvvigionamento. Oltre a rispondere all'emergenza contingente, l'audizione del 14 novembre sarà l'occasione per gettare le basi di una visione strategica che possa tutelare il diritto dell'acqua e la qualità della vita dei cittadini del Bastese, della provincia di Chieti e di tutta la regione Abruzzo.